Ciao, oggi preparo delle pesche ripiene, una ricetta molto facile che mi preparava mia nonna. Adesso andiamo a vedere gli ingredienti. Ecco gli ingredienti. Come dicevo prima, la ricetta è molto facile e ha pochi ingredienti. Allora, abbiamo bisogno di 6 pesche, 100 g di cioccolato fondente e 100 g di amaretti secchi. Ho sbucciato le pesche, adesso vado a tagliarle a metà. Mi raccomando, le pesche devono essere abbastanza morbide. Ecco qua. Adesso prendiamo gli amaretti e il cioccolato. Andiamo a sbriciolare un amaretto per ogni pesca. Per ogni mezza pesca andiamo a mettere due quadratini di cioccolato sopra. Per ultimo andiamo ad aggiungere un amaretto per ogni mezza pesca. Adesso andiamo a infornare a 180 gradi. Ecco le pesche pronte dopo 15 minuti di cottura. Spero che la ricetta vi sia piaciuta. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! 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 Grazie a tutti.